Stefano Testa, candidato sindaco per la lista Persone e Idee per Isernia. Oggi si parla di commercio. Il commercio che è di Isernia è in forte crisi. Come si fa per rilanciarlo? Quali sono le proposte? Il rilancio del commercio nella città di Isernia parte da tre azioni precise, indipendenti l'una dall'altra, che noi abbiamo previsto nel nostro programma, ovvero incentivi alla riapertura di nuove attività, incentivi al commercio interno, quindi alle vendite interne, alle vendite in loco e incentivi alle esportazioni. Naturalmente queste tre azioni per incentivare il commercio andranno coadiuvate con un'attenta opera di ripopolamento di Isernia, per cui bisognerà sicuramente riportare al centro storico di Isernia l'università, bisognerà favorire il turismo con tutte quelle azioni di marketing turistico che fino ad ora non sono state portate avanti, rilanciando la figura di Isernia come città della storia e della preistoria. Tutto questo ci vedrà impegnati in quello che è il punto cruciale, il punto cardine del nostro programma. Noi abbiamo previsto azioni di acquisizione dei fondaci del centro storico per far sì che il centro storico, che adesso si ripopola solamente nelle ore serali e nei giorni come questo di mercato, diventi un vero e proprio shopping center a cielo aperto e sia il punto cruciale delle attività commerciali ed artigianali. Abbiamo previsto l'utilizzo di una moneta complementare appunto per incentivare le persone a spendere e a mantenere, a favorire l'economia locale e abbiamo previsto la realizzazione di un portale del commercio che deve appunto servire alle attività commerciali, alle attività artigianali locali per avere una vetrina sul mondo e per poter esportare i loro prodotti. Noi sappiamo che il commercio è in crisi, piccoli negozi sono in crisi, ma il Made in Italy è assolutamente un marchio che tira all'estero e noi dobbiamo aiutare i nostri commercianti e i nostri artigiani a proporsi all'estero.